Alla fine questo è una partita di calcio e noi non diciamo quello che deve fare la gente, quindi io non so se saremo capaci di dare la svolta al risultato, io non so se romanzeremo o romanteremo, davvero non lo so. So che ce la metteremo tutta per riuscirci a arrivare alla finale, ma giuriamo una bellissima, una grande squadra, ma quello che abbiamo fatto è quello che si è fatto e quello che si è fatto è il passato, ma la realtà è questa, la realtà è che abbiamo un 3-1 e un svantaggio e tratteremo di dare la svolta.